un caro saluto da Marzia di hobbyshopbonboniere.it vi mostro un sacchettino per la prima comunione infatti abbiamo applicato il simbolo del calice con un portachiavi in legno croce tau con due perle sempre in legno naturali all'interno trovate il bigliettino con la calice ed uva con i dati del festeggiato e complete il tutto una bella coccarda di nastro di colore verde che è il mio colore preferito però siccome le nostre bomboniere sono artigianali realizzate da noi una per una con l'amore che ci contraddistingue dal 1983 quindi potete scegliere la combinazione che volete per noi la preferita è sempre per la comunione sacchettino bianco in questo caso una bella tonalità di bianco latte con all'interno il tulle sempre bianco i confetti avvolti nella bustina salva freschezza così rimangono fragranti anche se ad esempio vi preparate in casa le bomboniere molto tempo prima per essere tranquilli che tutto è sempre pronto nei tempi stabiliti e il nastro colorato che può essere come in questo caso verde o un mix colore o per la comunione molto bello il rosso molto bello il giallo oro o anche rosa ed azzurro quello che voi volete tanto noi le realizziamo proprio come piace a voi saluti a tutti